Detto Bonzanini molto difficile ma molto appetitosa per il Bologna perché potrebbe forse andare anche da sola in prima in classifica. Stasera si giocherà praticamente in contemporanea la sfida in terra toscana fra Tavarnelle e Cologne che per il momento guida il Girone B a punteggio pieno. Ci sono dei risultati sorprendenti perché Teramo continua a incappare in debacle o comunque in partite sfortunate e solo un pareggio a Modena. Attenzione a Nocelli, la parata di Rossi che va a esaltarsi, poi è bravo Bologna a ripartire e poi c'è stato l'altro risultato, la vittoria di Oriago a Carpi. Prova subito Bologna con Gerardi, palla sotto l'incrocio, esplode il palazzetto di Castenaso, Gianni non ci dobbiamo far ingannare perché la partita contro Oriago l'abbiamo negli occhi. Assolutamente sì, ricordo la partenza del Bologna velocissima con un 5-1 iniziale che faceva presagire una partita molto facile con Oriago, poi è successo quello che è successo, un punto a testa e così. Speriamo che non sia stasera la stessa cosa, che Bologna riesca ad approfittare del passo falso alla prima giornata di andata. Io ricordo a tutti che voi potrete sentire in diretta su Radio Handball Italia questa partita e la potrete seguire in differita domani sera alle 20.30 su TRC Sport Bologna. E intanto c'è una palla persa da parte del Cingoli che permette al Bologna di andare in seconda fase, anzi no, l'arbitro fa riprendere il gioco al portiere. E De Bosniac che organizza l'attacco per Savini, Savini ancora per Bosnia che tira, viene parato un po' frettoloso questo tiro di Bosnia, cosa dici? No, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto perché se la penetrazione di Gerardi ci poteva stare, palla intanto nell'ala, palla addirittura sopra la traversa. Non rompo l'inizio per Cingoli, non mi è piaciuto perché mi sa molto di forzatura. Voglio vedere azioni manovrate, voglio vedere giocate tranquille e soprattutto la nostra squadra fare quello che ha fatto a Teramo. Giocarsela, palla su palla, possesso su possesso. Sì, non devono avere fretta, non devono farsi prendere dalla smania di fare gol subito. Devono giocare la partita, come sanno. Intanto possiamo dire che Bologna è entrato in campo con Bosniac numero 40, Savini, Gerardi, Garau, Nardo, Michele Rossi in porta e Lorenzo Pedretti. Mentre il Cingoli con Campana, Nocelli, Arceri, Mangoni, Ilari e con il numero 19 Pivot, Strapini e Gentilozzi in porta. Ed è Davide Campana che questa volta organizza l'attacco contro la difesa 6-0 per Nocelli. Strapini, ancora Nocelli, tira Ilari e Michele Rossi è molto attento. Dopo c'è un fallo di piede del numero 19, Strapini e la palla ritorna a Bologna. C'è il 7 metri, c'è il 7 metri per Gerardi. Io però non sono contento perché vedo Bologna molto molto frettolosa, ha quasi fretta di chiudere la partita. Bologna se la deve giocare, possesso su possesso. Questa sarà una partita difficilissima. Bologna non ha iniziato bene, ma ha iniziato benissimo il nostro portiere Michele Rossi. Dobbiamo giocare un possesso alla volta. Molta tranquillità e soprattutto cercare di coinvolgere le ali. C'è Savini sul punto di battuta del 7 metri, Savini una finta e mette il pallone sui piedi del portiere di Cingoli. Poi raccoglie il pallone, lo va a prendere, poteva starci anche il vantaggio. Sbaglia Savini dai 7 metri. E questo è quello che dicevo. Con calma la partita la si gioca sui 40 minuti. Ne abbiamo viste tante di partite oggi con squadre che sono andate sotto di 3-4 gole che poi hanno vinto comunque accomodamente. Entrambe le squadre difendono 6-0 e confermo ciò che ha detto Bonzanini. Nel senso che sia Gerardi che Bonzanini sono andati al tiro troppo, troppo in fretta. E questo è un bellissimo cambio di direzione, uno contro uno, immarcabile Savini. Ancora un po' di fretta però ha fatto gol quindi va più che bene. E il punteggio dopo 4 minuti e pochi secondi dall'inizio è di 2-0 per Bologna. C'è un giallo a Nocelli che aveva spinto Savini nel momento di tiro. 5 minuti di gioco 2-0. E' un buon avvio ma voglio vedere un attacco più tranquillo. La difesa mi sta piacendo molto. La difesa è molto attenta e sappiamo la forza del Bologna in difesa quest'anno. Ha fatto vedere sempre campionato che nelle ultime due partite una concentrazione notevole in difesa. Perde palla Cingoli, tira Michele Rossi e segna il gol da porta a porta. Ma veramente è un gran tiro e non è facile la palla a mano vedere segnare i portieri. 3-0 per Bologna e applausi a Michele Rossi. Allora guarda la faccia di Nardo. Voleva il lancio, se l'aspettava quando ha visto quella palla ha detto non può essere per me. Invece Rossi ha avuto una visione straordinaria. Pensare che Carpi è un portiere che non ho mai visto lanciare. Stavolta addirittura va a trovare un gol clamoroso da porta a porta. Segna Nocelli, attenzione perché questo è un giocatore interessante. Eh sì, è un 98 molto interessante. E 99 molto interessante che Bonzaimini sicuramente conosce bene perché l'anno scorso lavorava per Carpi e quindi era un giocatore del Carpi. Bene, Bologna ancora. Dai e vai tra Savini e Fedretti per Gerardi, per Bosniak. Per Gerardi che scala Bernardo, che segna il suo primo gol ed è 4-1 per Bologna. Ed è adesso una partita molto veloce perché entrambe le squadre interpretano una palla a mano veloce, piena di seconda fase e contropiedi. E quindi adesso vediamo Campana, il pivot che è Strappini in mezzo ai numeri tre. Adesso tra secondo e terzo della difesa 6-0 del Bologna. Ma mi pare che la mente del Cingoli sia Campana che Nocelli. Questo è un rigore fischiato al Cingoli, c'è stato un colpo d'anca da parte di Bosnia che probabilmente ha Ilari ed è ancora Lorenzo Nocelli a avere la possibilità di segnare il secondo gol per Cingoli. E segna il rigore 4-2 dopo 6 minuti e 39 secondi dall'inizio. Abbiamo visto un'azione meravigliosa quella del gol di Nardo, splendida. Hanno toccato palla tutti tranne Garau che non ha partecipato in questa scalata. Così deve giocare Bologna. Peccato per l'azione del rigore, non sono così convinto. C'era il limite dello sfondamento in questo frangente. Prova intanto Gerardi, la scalata per Bosnia. Cerca il buco, si fa parare ancora il tiro a Bosnia. Ecco, Bosnia deve registrare, non sta tirando come siamo abituati a vederlo. Se non è la serata del suo braccio deve far giocare la squadra. Io voglio vedere un passivo in questa partita. In effetti, adesso non capisco, penso che sia un cartellino giallo. E infatti è un cartellino giallo per Pedretti. La palla rimane in possesso del Cingoli. E tornando al fatto di prima, Bosnia che ha 0 su 2 al tiro e deve cambiare un attimo, voglio dire. Ed è Ilari per Davide Campana, per Nocelli. Ancora Campana ha provato a dare palla al suo pivot a Strapini, ma la palla è stata fermata. Ancora Campana che è molto ragionatore in queste azioni di gioco. E adesso chiama, lo vediamo, chiamare un gioco con l'ala sinistra. Probabilmente farà far venire su... Niente, palla persa. Va in contropiede Nardo lanciato da Pedretti. E segna il suo secondo vol. Ed è Bologna brava ad approfittare di queste incertezze del Cingoli. Ancora Trillini che tira e Michele Rossi para molto bene. Parata straordinaria. Non è stato bravo Bologna a rientrare in difesa tempestivamente. Ma che modo che ha avuto di gestire questo contropiede. Contropiede perfetto, sfruttando alla grandissima rapidità. Queste sono due fra le squadre che giocano la pallamano più veloce. Certamente il giro ne è B, ma probabilmente anche del panorama italiano. Ci stanno dando spettacolo. Anche Bologna sta facendo vedere segnali di crescita. Prime forzature, poi adesso si gioca con la testa. Palla che va da una parte all'altra. Si fa correre anche la difesa perché la pallamano è uno sport che deve stancare anche in difesa. Ed è Savini che gioca uno contro uno per Bosniak. Stavolta intelligentemente Bosniak dà la palla a Garau. All'ala sinistra è che segna. Tra l'altro mi faceva notare Bonzanini che è stato abile Bosniak a legare il difensore. Ed è Pedretti che si lancia in contropiede. E segna il suo primo gol. Ed è il settimo del Bologna. Buona partenza del Bologna. 7 a 2 dopo 9 minuti e 23 secondi. Questo è un bel vedere. Questa è una bella pallamano. E l'allenatore Sandro Nocelli è obbligato a chiamare il time out. Però Nocelli non è che possa dire più di tanto perché comunque Cingoli la partita se la sta giocando. Il problema è che Bologna, a parte Bosniak e che comunque carburerà, è l'intelligenza di Bosniak è stata quella di non prendere un tiro ma di fare il no look dietro la schiena per Garau. Questa è l'intelligenza del grande giocatore. Ma è una squadra che sta giocando bene. Nardo è partito con un bel 100%. Garau al primo tiro ha segnato. Jack Savini dopo il rigore sbagliato ha trovato soluzioni straordinarie. Bellissimo tra l'altro il suo gol andando a sfondare centralmente la difesa. Cingoli non sta giocando male e che ha trovato stasera un Bologna che è stato protagonista di un grande, grandissimo abbio. 10 minuti di gioco, 7 a 2. È un'ottima partenza ma bisogna rimanere lì. Deve continuare così il Bologna. Intanto io approfitto per darvi alcuni risultati di match già terminati. Albatros Fondi 27 a 24, Modena Teramo e Cinteressa 21 a 21, Trieste Pressano 20 a 23, Trieste perde in casa. Non è usuale che il Trieste perde in casa. Fassano Ragusa un punteggio veramente stellare per il Fassano 51 a 19. Bolzano Merano 27 a 21 finita pochi secondi fa. Malo Cassano 24 a 30, Mezzocorona Brixen 22 a 26, Carpi Oriago e ci interessa anche questa 30 a 34, Gaeta Conversano 20 a 35 e Noci Valentino 35 a 33. Intanto da sottolineare un gol del Cingoli con Davide Campana e quindi ha accorciato la distanza ed è Bognac che tira ma prende la traversa. Forse c'era fallo di rigore ma non fischiato. Sì perché l'area era stata in base al difensore, tanto c'è la munizione per proteste a Campana. Bologna tiene il possesso palla però non è rialtrata benissimo dal time out. Tranquillamente, bisogna giocarla. Gli arbitri non hanno alzato il braccio, giochiamo sto pallone. E intanto c'è un cambio di posto tra Gerardi e Savini, Savini gioca terzino destro ma sappiamo che Bologna gioca in questo modo con repentini cambi di posto. Savini uno contro uno per Bosniac ancora e segna Bognac questa volta, non sbaglia e segna il suo primo gol. Grazie a un uno contro uno che ha aperto la strada a lui ed è il contropiede lanciato da Michele Rossi che viene intercettato da Gentilozzi che addirittura va a tirare. Ma questa volta Michele Rossi ha provato a tirare da porta a porta ma non è stato così preciso come prima. E' inusuale vedere un portiere che va, recupera palla, va fino ai nove metri avversari e tira con un'elevazione da portiere. E intanto c'è Ilari mi pare, sì, Ilari che segna il suo primo gol. Dicevo non è usuale vedere un portiere che parte dalla sua area e va a tirare in elevazione come se fosse un terzino alto due metri. Sì, ha fatto una giocata straordinaria, sicuramente spettacolo puro, se l'è gustato un po' meno Nando Nocelli. Attenzione al cingoli, bellissima questa scalata, la palla arriva nell'angolo, arriva un gol e qui Bosniac se sbaglia deve rientrare perché la difesa è andata in difficoltà su questa scalata. 8-5, 2-0 di parziale al time out, bisogna registrare un attimo le vite. Sì, non va bene, eravamo 7-2, adesso 8-5, ha segnato per il cingolo Filippo Mangoni, sua prima rete. Partita molto veloce ed è bellissima, intanto pare che si appresti a entrare in campo Stefano Bonazzi, il tiratore del Bologna. Ancora Savini uno contro uno per Gerardi che ha fretta di tirare, ma per fortuna Pedretti riprende palla e segna il suo secondo gol. Su ribattuta Nocelli per Davide Campana, per Ilari che fa passi, ma gli arbitri non vedono. Erano almeno 5 i passi di Ilari, sei d'accordo? Ma sì, ha preso palla e poi è andata ad attaccare. Dritto per dito, bravo, per carità, perché ha trovato lo spazio, però i passi ci sono stati. E Beppe Tedesco fa benissimo a protestare. Fuori Garau e fuori Bosniac, dentro Tedesco e Bonassi. Cambia tutta la catena di sinistra di gioco Beppe Tedesco ed è lì che è arrivato qualche problema. Adesso vedremo se l'ingresso di questi nuovi due metterà un po' più d'ordine. Sono due giocatori, Bosniac e Garau, che devono rimanere caldi perché sono fondamentali. Eh, infatti, è doppio cambio per il Bologna. Bonassi si fa vedere subito come grande tiratore. Sempre un po' forzato Enrico, devo dire la verità. E comunque è andata dentro, va bene. Davide Campana prova a fare un bel assist a Strapini, ma non riempie. Gran recupero di palla, probabilmente la chiamata degli arbitri gli va contro, ma va bene così. Perde palla Campana, si butta Pedretti. Poi riparte anche Cimatti. Bella la scalata per Tedesco da Savini. Palla in rete e un Bologna spettacolare in attacco. Sì, abbiamo visto un gioco corale perché Savini, Cimatti e Tedesco hanno portato a termine un'azione molto veloce in seconda fase. Sono sette i giocatori a referto di Bologna. Questo vuol dire che cosa? Vuol dire che questa squadra ha un gioco, ha un'anima e ha una mentalità. Perché se su 11 reti ci sono sette marcatori, in così pochi minuti, perché la partita è iniziata poi da 13 minuti, vuol dire che la squadra ha una certa confidenza. Infatti, ancora Ilari per Nocelli, Lorenzo Nocelli, che si alza ma dà palla a Mangoni, che segna il suo secondo gol dall'ala destra. Stanno arrivando tutti da lì i problemi. Bologna su quella fascia, attacca fino a questo momento così così, difende male. Dall'altra parte invece Arcieri, che è il giocatore più temibile, non sta dando fastidio. Fuori Campana, che probabilmente non ne ha più, per il Cingoli. Cambio a questo punto obbligato, probabilmente, dentro Camperio. Ed è Bonassi per Gerardi, ancora Savini. Uno contro uno lancia Gerardi, ancora uno contro uno di Gerardi. E segna Gerardi, di forza, di forza. Comunque gli attacchi del Bologna non sono molto lunghi, va bene così. 12 gol dopo 14 minuti, sono un bel andare. E Gerardi sbaglia completamente il lancio a Matteo Tedesco. Ne approfitta Arcieri, ma c'è una grandissima parava di Michele Rossi, che veramente legge, legge molto bene il tiro di Guilipo Arcieri. Il migliore in campo del primo tempo. Sta facendo una partita straordinaria. Imparabile e il semi imparabile l'ha preso tutto. Pierceri ha fatto un buon tiro, oggettivamente la costruzione era buona. Gli ha fatto vedere alla mano, Rossi l'ha letta, aspettate, ha parato. Esce Savini ed entra Argentini. Argentini in non perfette condizioni. Ricordiamo che a Teramo ha saltato l'incontro per infortunio. E quindi rientra stasera. Vediamo in che condizioni. Gerardi a terzino sinistro, riceve fallo e sono nove metri. Pedretti prende falla, rimette in gioco per Bonassi, che è nella zona centrale del campo, con Argentini e con Gerardi, ancora uno contro uno. E anche questa volta Gerardi ha affrettato troppo il tiro. Non c'era, era molto decentrato. Io penso che se Bologna sarà capace di far muovere la difesa del Cingoli, potrà trovare gli spazi giusti e trovare la via della rete. Bravo, bravo ancora Michele Rossi, perché poteva lanciare, invece ha aspettato. Gran gol di Argentin qui. Gran gol di Argentin che non ci pensa neanche una volta e va al tiro segnando e prendendo il palo interno, la palla è andata dentro. Ed è adesso Camperio, Camperio che organizza il gioco dopo l'uscita di Campana. L'incrocio con Lorenzo Nocelli, ancora Ilari, per Nocelli, per Ilari. Camperio che chiama l'incrocio a Filippo Arceri, che fin dal tiro, ancora Filippo Arceri che con un sottomano, ma fuori misura, va fuori. Allora, la costruzione dell'azione è stata più o meno obbligata da Cingoli, perché Bologna sta difendendo veramente in maniera perfetta. Dentro anche Santolero per Pedretti, ti faccio notare una cosa Gianni, a parte Mula, tutta la panchina, Mula e Leban, entrate in campo. Grande circolazione, sono passati solo 17 minuti. Questo vuol dire che cosa? Che il concetto di titolare dei serva a Bologna c'è poi poco alla fine, perché questa è una squadra costruita bene ed è una squadra soprattutto con giocatori, due per reparto, che possono giocare indistintamente. C'è un tiro a Murato di Bonassi e io aggiungo qualche cosa, questa è sempre stata la pallamano di Beppe Tedesco che ha sempre voluto far giocare tutti quanti, anche perché poi sono giocatori tutti quasi sullo stesso livello e quindi notiamo adesso un rigore preso da Lorenzo Nocelli che tirerà Filippo Arceri, esce Michele Rossi ed entra Alessandro Leban per parare il rigore, speriamo parare. Noi tifiamo Bologna, sicuramente Enrico. Siamo di parte, siamo scorrettamente di parte, però ripeto, ad onor di pallamano dobbiamo dire che ci stiamo veramente divertendo. dentro Leban che ha fatto grandi, posa Teramo in campo per provare a disinnescare il rigore di Arceri, Arceri prova a sbloccarsi, palla dentro, Leban non poteva arrivarci. e segna, segna, 13-8 dopo 17 minuti e 47 secondi dall'inizio, è un buon risultato, 13-8 e c'è una grande percentuale di gol perché dopo 17 minuti, 13 gol, se altrettanti se ne faranno nei 12 minuti finali, arriveremo a dei punteggi veramente elevati. e intanto c'è una palla persa da parte di Luca Argentin e Filippo Arceri segna il suo secondo gol per palla rubata ma più che palla rubata è una palla persa da parte del Bologna con Argentin. Questa squadra, Cingoli, non ha bisogno di regale perché è una squadra giovane che in questo momento per necessità deve fare a meno del giocatore di maggiore esperienza e classe, probabilmente, che è Davide Campana è una squadra che sta provando lentamente a rimanere aggrappata alla partita e risalire alla china. Bologna non le deve concedere perché questa è una partita che Bologna per il momento ha in mano in questo momento urge essere tranquilli, si può anche provare a forzare perché in questo momento il punteggio lo consente però palloni facili non vanno concessi, se c'è un 5-1 di difesa con il giocatore che esce per andare ad anticipare lo si scavalca. Infatti, ma comunque prontamente Beppe Tedesco ha chiamato il timeout, spero che serva perché è importante riprendere quel ritmo, quella velocità e quel bel gioco che ha contraddistinto fino adesso, tranne la palla persa di Argentin e il Bologna. Ed è rientrato Bosniak e Giacomo Santolero in pivot e quindi Argentin, Luca Cimatti, Bonassi, Matteo Tedesco e Michele Rossi sono gli altri del Bologna. Bosniak che chiama il gioco e fa salire su in pivot, doppio pivot, Matteo Tedesco che riceve palla con un assist bellissimo di Bosniak ma fa invasione e intanto Giacomo Santolero riesce a recuperare palla riesce a recuperare palla ma prende un colpo in faccia da Mattiasevi. Allora, due bruttissimi errori arbitrali. Il primo è che quella è un'invasione che non la vedi mai fischiare e io la vorrei rivedere questa invasione perché la giocata è stata stupenda e io non sono così convinto che Tedesco avesse invaso. E poi se fermi l'azione che è un contropiede, non è che la fermi perché c'è un giocatore per terra la fermi per prendere un provvedimento perché Mattiasevi c'è andato sull'uomo. Assolutamente, ma poi io sono dell'idea che quando c'è un gioco veloce da parte della squadra non si deve assolutamente fermare il gioco a meno che l'arbitro non ritenga così grave il colpo ricevuto dal giocatore ma non mi sembrava un colpo così grave quindi avrebbe per vantaggio Enrico dovuto far terminare l'azione e poi andare dal gioco. O dà il vantaggio oppure un fallo tattico e allora lo fermi. L'arbitro adesso sta parlando con Beppe Tedesco probabilmente c'è anche una parola di troppo dalla panchina anzi no, col fatto che è entrato il medico non può stare in campo Santolero. Dentro Savini probabilmente a fare il pivot per questa azione. Sta piacendo Bologna, dobbiamo leggermente contenere i gol subiti. Per l'attacco 13 gol in 18 minuti è un bel andare. L'arbitro ha regolarmente interpretato appunto il regolamento scusate il gioco di parole perché se un giocatore finisce per terra deve andare fuori e stare fuori mi pare due attacchi e quindi ha applicato alla perfezione il regolamento. Bosniak si lancia e tira e segna il suo secondo gol. Un'azione lineare, un uno contro uno. Avevano i pivot creato lo spazio spostandosi a destra della difesa e quindi Bosniak un gioco da ragazzi fare questo gol. Bravo, bravo Tommy perché adesso il braccio è caldo. Sta cominciando a prendere i tiri che ci si aspetta da lui. Quelli un po' più complicati. Quelli quando la difesa è un pochettino più chiusa e soprattutto la difesa in questo senso quella di Cingoli sta cercando di prendere le controvisure. Bosniak è l'elemento quello di distruzione quello che non ti dà punti fermi non ti dà tranquillità e ti permette di fare la giocata. Bravo, bravo Savini. Niente lanci perché comunque Cingoli l'ha letto ormai la giocata. Una palla persa molto ingenuamente dal Cingoli praticamente a Nocelli ha servito la palla a Filippo Arceli il quale non si è accorto che gli stava per passare la palla e quindi la palla è finita nelle mani di Savini che ha ragionato e ha portato il Bologna ancora in attacco. Bosniak è ancora per Savini ma Savini si fa parare il tiro dal pivot era bellissimo l'assist da parte di Bosniak e per Savini Nocelli che gioca uno contro uno e tira e segna il decimo gol per Cingoli e il suo terzo personale. Si sta stabilizzando sul più 4 per Bologna al punteggio sul 14-10 io adesso non per parlare sempre delle stesse robe però Savini ha fatto una gran giocata col piede perno quasi un movimento da pivot cestistico Tedesco cosa vuole fare? Vuole giocare con un centrale in più che in questo caso ha il fisico per fare anche il pivot è una scelta che potrebbe pagare visto che la manovra è in attacco adesso Cingoli sta provando a leggerla Ed è un po' di gioco in circolazione di incroci per il Bologna è ancora in attacco Bosniak che viene preso quasi per il collo da Strapini Savini rimette in gioco ancora per Bosniak uno contro uno per Bonassi per Matteo Tedesco bellissima l'idea di Matteo Tedesco per Savini che serve un assist fintando il tiro dall'ala sinistra intelligente Matteo Tedesco Enrico bravo bravissimo ha perso il tempo perché il pallone non era perfetto se l'è trovata sotto ai piedi non aveva il tempo di fare i due passi per andare a prendere la rincorsa verso il centro ha visto Savini colpevole la difesa di Cingoli che si è fermata tutto solo e ha fatto la cosa più giusta 15-10 si sblocca anche Savini io vi ricordo che voi potete vedere questa partita in differita domani sera alle 20.30 su TRC canale 185 del digitale terrestre e intanto la potete ascoltare in diretta su Radio Handball Italia ha segnato in questo momento il Cingoli Camperio è Camperio che ha trovato il buco nelle mani della difesa di Bologna si rimane sul più 4 adesso il punteggio è stabile deve capire Bologna che questa è una fase delicata della gara Cingoli le sta provando tutte a non prendere un altro break siamo a 8 minuti dalla fine del primo tempo bisogna fare le azioni ragionate non questa bisogna trovare la maniera di aprire la scatola del Cingoli che sta difendendo molto bene Cingoli che ha cambiato difesa è andata in 5-1 con Filippo Arceri davanti ed è Bosnica che adesso deve fare e trovare gli schemi giusti contro questa difesa ed è Argentin che si lancia uno contro uno non ci pensa su due volte e segna dagli 8-9 metri il sedicesimo gol per Bologna e intanto la palla di Camperio per Strappini non va a destinazione per fallo di Savini quale prende anche cartellino giallo non so quale fallo comunque va bene così bravissimo coach Beppe Tedesco l'ha capita il centrale deve sempre cercare il pivot per cercare di aprire la difesa e noi il pallone al pivot non glielo facciamo mai arrivare bene Camperio dai e vai con Strappini Ilari ancora per Lorenzo Nocelli per Filippo Arceri che prova a dare palla al pivot ci riesce c'è un rigore due minuti rigore a favore del Cingoli e due minuti per Stefano Bonassi non so li ha dati l'arbitro quindi avrà visto qualcosa di irregolare intanto il Cingoli con Mattiassevic si appresta a tirare questi sette metri Mattiassevic c'è Mancino contro Michele Rossi il terzo rigorista diverso non commento la scelta agli arbitri c'è questo sette metri Mattiassevic proverà a trasformare resta Rossi in porta Mattiassevic gli prende anche questa che partita che sta facendo Rossi grande Michele Rossi sta veramente facendo una gran partita non solo per il rigore che ha appena parato ma per il gol che ha fatto per le innumerevoli parate ormai sia dall'ala sinistra che dall'ala destra dai terzini quindi speriamo che questa giornata rimanga così e duri fino alla fine per Michele Rossi Savini uno contro uno per Argentin per Luca Cimatti ancora per Savini attenzione Cimatti a dare quella palla a Savini perché c'è Filippo Arceri fuori e può intercettarla Bosniak per Savini ancora uno contro uno prova sembra a caricare il braccio Bosniak per trovare la via della rete Cimatti per Argentin uno contro uno tira un po' forzatamente c'è il braccio del passivo alzato dagli arbitri quindi sapete che c'è un numero massimo di passaggi da poter fare che va da 6 a 8 e Bosniak che segna con un tiro in doppio appoggio il 17esimo gol per Bologna bravo bravissimo Tommy attenzione a Ilari che trova il buco e va a segnare peccato per la sistemazione difensiva abbiamo concesso un'azione veloce che siamo con l'uomo in meno peccato si resta lì abbiamo guadagnato qualcosa siamo sul più 5 questi sono i tiri di Bosniak quando la partita è complicata lui deve trovare il coniglio per fortuna abbiamo visto un passivo Gianni tornando alla difesa di prima c'è stato un errore di Matteo Tedesco che ha valutato male la distanza con Ilari perché voleva intercettare il passaggio e intanto c'è un passi fischiato a Bosniak e quindi palla va al cingoli ecco questo torniamo a dire le stesse cose non deve forzare Bosniak è un giocatore fortissimo ma è forte quando gioca con gli altri e anche quando le attuazioni personali lo permettono sì qui probabilmente intanto rientra anche Santolero si ricompone la parità numerica non è piaciuta la scelta perché è andata a forzare dovendo forzare avendo la difesa chiusa gli è servito un pass in più gli arbitri l'hanno valutato giustamente come pass Arceri va a fare un gran gol sì Arceri ha fatto un gran gol e ha beffato Michele Rossi con un pallonetto millimetrico bisogna dire la verità millimetrico ed è Bologna con Bosniak Argentin ancora Bosniak va in doppio pivot Matteo Tedesco si lancia Bosniak ma viene colpito alla fronte si lamenta ed è Ilari che probabilmente lo ha colpito allora questa è una partita tremendamente corretta e su questo bisogna dire la verità però un paio di due minuti ci potrebbe anche stare perché il colpo in testa Bosniak l'ha preso allora basta diamogli questi due minuti ci sono l'atteggiamento non è volutamente non è volutamente violento da parte dei cingoli però se dipendi forte ti esponi anche al fatto di poter prendere due minuti intanto esce nel cingoli Mattiasovic ed entra Mangoni cambia ancora Sandro Nocelli Bosniak è entrato il medico dentro Bonassi dentro Bonassi per Bologna arrabbiatissimo Bosniak ha ragione gli arbitri devono riportare la calma queste sono giocate violente e pericolose Bologna non sta difendendo così allora la partita rimanga su questi binari e intanto comunque la panchina del Bologna è lunga e permette questi 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 cambi e il Bologna rimane sempre su ritmi molto elevati di gioco comunque ed è Santolero Giacomo Santolero per Savini ancora Argentini Filippo Arceri che fa una difesa molto profonda e Bonassi che tira all'incrocio dei pali e fa un gran gol fa un gran gol questa è la bellezza del Bologna questa tutti possono segnare in qualsiasi momento grandissima qualità grande variante di soluzioni io sinceramente non sono tranquillo perché Cingoli adesso sta un pochettino provando a metterla sulla guerra per innervosire i tiratori di Bologna però è una squadra tranquilla due minuti e mezzo qualcosa in più al termine del primo tempo 18 a 13 è un ottimo punteggio non bisogna subire questo possesso questo era un gol evitabile sicuramente questo tiro se meglio avesse funzionato il muro mi pare addirittura che la palla sia passata in mezzo ai due difensori quindi non è che il tiro avesse superato il muro ed è Argentin cosa ha fischiato passi ma a mio parere non c'erano proprio Gentilozzi che rimette subito la palla in gioco ed è ancora Nocelli per Camperio per Ilari che segna ancora per un errore di Matteo Tedesco perché non deve fare queste uscite è uscito presto la smagna di andare ad anticipare però questo è un errore grave perché Cingoli ha fatto un contro break di 2 a 0 e adesso Cingoli sta provando a rientrare in partita intanto ci sono anche delle schermaglie fra i due allenatori fra Nando Nocelli e fra Beppe Tedesco Bologna deve rimanere tranquilla il ponteggio deve rimanere sulle 3-4 lunghezze di distanza bisogna però mantenere la calma nel giocare questo pallone 18 a 15 e ancora 2 minuti e 15 secondi da giocare fino alla fine del primo tempo Savini che prova a giocare uno contro uno e forza il tiro ancora una volta ma perché dobbiamo giocarla la palla dobbiamo giocarla 18 a 15 e diamo la possibilità al Cingoli ancora di accorciare ed è Nocelli che forse aveva fatto passi sbattendo i piedi più volte ed è Ilari per Nocelli si lamenta Nocelli per essere stato colpito al naso con l'arbitro vediamo Camperio per Nocelli va in doppio pivot Filippo Arceri ancora Nocelli per Camperio ancora Ilari Cingoli è al limite del passivo segna Nocelli forse c'è stata una deviazione che ha messo fuori Michele Rossi che ha preso gol ed è Nocelli che il che è il maggior realizzatore del Cingoli con cinque sì con cinque gol Santolena ancora per Savini uno contro uno per Argentin che tira e segna Bologna non ci pensa un attimo bastano due tre passaggi vanno al tiro speriamo che vada che Bologna abbia una buona percentuale al tiro perché veramente vanno al tiro troppo presto ed è Mangoni segna un gran gol dall'ala destra prendendo proprio l'incrocio dei pali partita molto veloce 40 secondi alla fine 19-16 molto veloce ma noi stiamo difendendo proprio male perché non c'è attenzione prendiamo tanti gol dalle ali sul gioco piazzato anche Cingoli sta forzando perché il gioco è molto rapido da tutte e due le parti però ripeto in questo momento Bologna deve semplicemente essere più tranquilla nel possesso del pallone ma anche di provare a giocare meglio in difesa perché stiamo prendendo i gol evitabili 20 secondi alla fine del primo tempo Argentin che si accentra per dare palla a Bonassi che prova a spingere uno contro uno 10 secondi alla fine ed è Argentin che tira riceve fallo ci saranno ci sarà un 9 metri probabilmente un tiro a tempo scaduto così è vediamo chi si incarica del tiro sarà probabilmente Bonassi è contento Nando Nocelli perché la partita l'ha ripresa purtroppo era quello che dicevamo Bologna si deconcentra troppo presto adesso servirebbe un miracolo barriera fittissima il portiere è piazzato la fa arretrare l'arbitro Bonassi dovrebbe inventarsi un qualcosa di geniale è vero che il portiere non la vedrà partire però ripeto sarà difficilissimo infatti la palla va sulle braccia del muro finisce il primo tempo 19 a 17 19 a 17 e noi cari ascoltatori ci risentiamo fra circa 10 minuti un quarto d'ora vado gli arbitri ci sono nuovamente collegati dal palasport di Castenasso per l'incontro valevole per la terza giornata del girone B del campionato di Serie A1 di Palamano tra Bologna United Handball Club e Palamano Cingoli prima azione del Bologna il Cingoli rimane in difesa profonda ed è Savini che tira e segna con dopo un uno contro uno molto buono il suo terzo gol accanto a me come sempre Enrico Bonzanini si ben ritrovati amici ascoltatori di Radio Elmo l'Italia TRC Cingoli che adesso prova immediatamente a ritrovare il gol del meno due ci prova con Camperio che coglie la traversa poi è fortunatissimo perché la palla resta lì Strapini se la trova di fatto in mano Leban è per terra non può fare nulla segna il meno due è stato un intervallo impegnativo è stato un intervallo impegnativo la squadra deve mantenere la tranquillità la partita abbiamo dimostrato di poter non solo controllare ma di dominarla bisogna giocare bisogna assolutamente giocarla è intanto da registrare l'ingresso di Alessandro Leban e anche il gol di Gerardi e ha trovato questo gol dalla sua posizione preferita di terzino destro abbastanza decentrata la sua posizione un bel gol sul primo palo alto niente da fare niente da fare per Mario Gentilozzi ed è Camperio ancora che organizza il gioco contro la difesa 6-0 del Bologna dai e vai con Strappini si accentra Nocelli ancora Camperio prova a dare palla a Filippo Arceri ma è marcato chiuso ed è Ilari ancora per Nocelli che prova l'uno contro uno ma Savini non si fa sorprendere Strappini per Nocelli Camperio Filippo Arceri niente da fare forse gli arbitri alla non me l'aspettavo non è Filippo Arceri anzi si è Filippo Arceri che ha segnato con una elevazione venendo su dall'ala sinistra è un ottimo gol il portiere penso a non solo aspettarsi non è usuale vedere dei tiri di questo tipo aveva le mani un po' basse Nardo ma non aveva difeso male con i piedi il portiere probabilmente non si aspettava una bordata di quel tipo magari si aspettava una penetrazione classica prova Gerardi adesso trova spazio torna Nardo in campo e mi era distiaciuto non vederlo più perché stava giocando molto bene adesso c'è Bosnia che tenta l'imbucata Savini palla gol grandissimo gol di Savini 22-19 serve una difesa adesso bisogna non prendere gol si non bisogna prendere gol Bologna è andato in gol nei primi due attacchi due minuti e 44 giocati 22-19 vediamo un po' la difesa deve tornare a essere efficace come nei primi 20 minuti 18-20 minuti che effettivamente andava molto bene ed è Ilari che tira da circa 10 metri un missile sul palo basso Leba non era pronto sicuramente perché è un tiro da molto distante ed è Bosniak che prende un fallaccio fanno bene gli arbitri a dare due minuti riesce a tirare ma era è sicuramente un fallo di rigore da rigore e quindi il rigore per il Bologna sicuramente direi 9 metri ma come 9 metri clamoroso clamoroso al Cibali come si diceva no? è clamoroso davvero io adesso bene due minuti o dai rosso dai due minuti in questa cosa perché il fallo è stato abbastanza anche cercato però sta andando dentro hai piedi su praticamente sulla linea se non è 7 metri questo quando lo è? correttissimi i giocatori del Bologna che non hanno detto nulla a questa chiamiamole ingiustizia Nardo che segna il suo terzo gol dopo un'ottima scalata da sinistra verso destra con passaggio finale di Gerardi i giocatori del Cingoli non sono molto alti quindi se la difesa rimane vicina i componenti della difesa del Bologna rimangono vicini e chiudono gli spazi per me è già un bel passo avanti perché non sono grandi tiratori ed è ancora Nocelli è passivo per Cingoli ed è Filippo Arceri che finta il tiro dai 9 metri poi ci ripensa azione da 7 passi ed è ancora Filippo Arceri che tira para Leban bene Bosnia che si lancia in contropiede in palleggio uno contro uno dà una bellissima palla a Pedretti il quale però si fa parare il tiro da Mario Gentilotti gliel'ha data forse con un leggero attimo di ritardo però non aveva la certezza di avere la visuale di passaggio libera e ha atteso un minuto di più peccato perché Pedretti non aveva neanche fatto un brutto movimento gran parato invece del portiere da ex allenatore la posizione di Pedretti non era proprio l'ideale per un pivot perché era spalle alla porta si sarebbe dovuto trovare lateralmente alla porta così da poter vedere bene il portiere lui non ha guardato non ha avuto il tempo di guardare il portiere per questo che Mario Gentilotti ha parato scusami questa questa se ho puntualizzato Filippo Arceri che prova a impegnare la difesa Ilari viene difesa difeso bene da Savini che lo prende lo mette giù ed è Nocelli ancora uno contro uno ancora Ilari ma viene parato il tiro di Ilari da Alessandro Leban bene ed è Argentina per Sebastiano Garau che si fa parare un po' forzato questo tiro di sede no non ha forzato non ha scalato ha voluto attaccare praticamente lungo linea una conclusione complicatissima Leban però non ha fatto in questo caso la scelta giusta prima abbiamo eloggiato Rossi perché non lanciava ma qui c'erano sia Gerardi che Nardo da soli davanti al portiere e quindi Leban doveva sicuramente guardare prima di dare la palla a Bosnia ed è Strappini per Ilari per Nocelli molto attento Lorenzo Pedretti in difesa ancora Camperio ancora Filippo Arceri che si sta veramente si sta facendo vedere ottimo talento ed è Mangoni ancora guarda questo Mangoni è un giocatore che ha una fisicità importante fa vedere il braccio quando tira ma è chirurgico dentro torna dentro Bosnia per Argentin cambio difensivo si torna sul più due Bologna 23 a 21 dopo 6 minuti e 7 secondi dall'inizio del secondo tempo Savini che chiama l'attenzione dei suoi compagni sposta il pivot tra quarto e quinto ed è Bosnia che al centro che incrocia per Savini che è bravo a prendere una palla quasi persa ed è Pedretti per Gerardi Savini cambio di posto tra Bosnia e Savini si lancia questa volta è un bellissimo passaggio di Bosnia che Pedretti e Pedretti ha tutto il tempo per piazzare bene il tiro e segnare e segnare il 24esimo gol per Bologna io Lorenzo lo conosco bene qui ha accentuato molto voleva il 2 minuti bravo l'arbitro a vedere che era una semplice una semplice interruzione di gioco 9 metri adesso Cingoli sta cercando di accelerare ma Bologna accetta la sfida deve difendere bene Bologna sicuramente deve difendere bene e il portiere deve parare che è più facile con una difesa con un'ottima difesa ed è Camperio Nocelli per Camperio che prova sempre a caricare il braccio di tiro ma non trova spazio Filippo Arcelli intanto va nella sua posizione ideale di ala sinistra Ilari c'è il passivo Camperio che prova a tirare tira fuori ed è Leban che dà palla a Savini Pedretti è molto arrabbiato perché ha ricevuto uno schiaffo da Camperio intanto Tedesco chiama il time out Pedretti prende due minuti perché ha reagito al colpo in faccia da giocatore che sono anni che calca i parquet d'Italia non deve fare questo Beppe ci ha messo un secondo in più nell'appoggiare se l'avesse chiamato un secondo prima e l'aveva capito infatti ha fatto la mossa probabilmente non ci sarebbe arrivato però io torno a dire una cosa Pedretti ha perso la testa e non lo deve fare ma i pugni li devi fischiare perché qua il metro arbitrale non è scandaloso però a una parte concedi all'altra no e comunque Bologna anche con uno in meno deve provare a trovare la via del gol 24 a 21 dopo 7 minuti e 55 secondi ed è Bosnia che tira e segna segna Bosnia con un tiro in sottomano e sono questi i gol i gol che fanno godere Enrico si si ci piacciono Bologna torna sul più 4 adesso Argentine pronte a entrare in campo vediamo Nocelli riesce a smarcarsi Camperio non ha la visuale per il tiro Arceri attenzione ad Arceri finta il tiro scarica per Nocelli bella palla Strapini bravo Leban gran parata di Leban bellissima parata di Leban a pelle d'orso che toglie la soddisfazione del gol a Strapini veramente una parata a pelle d'orsa tipica nella palamano ha chiuso tutto lo specchio della porta ancora Pedretti parla dei due minuti ma non lo deve più fare deve resettare la sua mente da quello che è successo e rientrare poi in campo giocandola al 100% senza pensare a quello che è successo anche perché Pedretti sta facendo una partita fantastica nel primo tempo abbiamo retto bene con lui in difesa ha preso due gol nella ripresa molto difficili da realizzare 25-21 è perfetta così va giocata Bosniak è ancora lui è ancora lui con questo con questo mitragliatore per braccio che ha che indovina un angolo stupendo ed è Leban che in spaccata toglie anche a Ilari la soddisfazione del 22esimo gol grandissime parate di Leban le ultime due veramente importanti perché riportano Bologna a più 5 primi tre possessi Alessandro Leban era freddo gol comunque che si possono prendere ma non era l'Alessandro Leban che conosciamo adesso ha fatto due parate meravigliose e adesso è il break è il momento Bologna sta attaccando con Gerardi troppo presto Gerardi troppo presto ha tirato la palla è andata fuori Cingoli va in attacco velocemente squadra molto veloce anche il Cingoli rientra rientra Pedretti ed è il rigore giustamente due minuti per Gerardi lo ha cinturato non l'ha fatto girare questo questi due minuti sono a mio parere sacrosanti e c'è un 7 metri per Filippo Arceri e vediamo se Leban ci fa ancora sognare Arceri contro Leban Leban contro Arceri andiamo ancora a giocare con l'inferiorità numerica Arceri fa una finta non ha bocca Caleban che è andato vicino vicino ed è gol ha tirato due volte dai 7 metri Filippo Arceri e due volte ha segnato intanto Bologna si ritrova con un uomo in meno 5 contro 6 vediamo se ancora ci penserà Bosniak ricordo capo cannoniere dello scorso anno di tutto il campionato italiano Savini per Bosniak per Argentine 1 contro 1 Pallanardo Pallanardo che viene su e va in doppio pivot è bella la palla di Bosniak per Seba Garau però anche lui si è trovato spalla alla porta e non è riuscito a girarsi nervosissimo Garau anche adesso va a litigare con Bosniak non capisco perché si comporti così il capitano si deve dare calma Argentine che prende 9 metri la difesa del Cingoli è concentrata su Bosnia io vedo i nostri ragazzi il nervosismo di Garau e di Pedretti è anche giustificato perché la partita è tiratissima c'è il passivo manca un solo possesso vediamo se Bosniak va a tirare Rete ancora Bosniak con il suo braccio velocissimo ed è il tiro di Strapini che va fuori era più che un rigore questo per Strapini ha sbagliato bene per il Bologna che si trova con 27 gol contro i 22 di Cingoli dopo 11 minuti e 25 secondi dall'inizio del secondo tempo Savini ancora Bologna in 5 Savini per Argentine 9 metri per Bologna ed è Nardo che rimette in gioco per Savini ed è Bosniak che veramente no non era sicuramente questo uno sfondo da uno sfondo da fischiare Bologna comunque recupera palla con Pedretti grande voglia dei giocatori del Bologna di recuperare palla di vincere questa partita tant'è che i due Savini e Pedretti si sono scontrati perché entrambi volevano prendere palla e recuperare palla io avevo paura che questo nervosismo potesse complicare la partita per il momento questi non sono nervosi i nostri ragazzi i nostri ragazzi hanno sangue negli occhi che è tutta un'altra cosa sì è tutta un'altra cosa assolutamente sono belli carichi ed è Pedretti che si fa parare il tiro peccato perché era stato bellissimo l'assist di di Bosniak per Pedretti e intanto Filippo Arceri in seconda fase segna l'ennesimo gol 27 a 23 perché da asciugare entra l'inserviente e intanto Bosniak e Pedretti parlottano fra loro probabilmente per lo schema prossimo riprende il gioco Bosniak per Savini per Argentin terzino destro ancora Tomi Bosniak per Savini il Pedretti è in mezzo alla difesa chiama e si fa segnale con Bosniak ancora lui per Savini che tira ma Gentilozzi para un tiro abbastanza telefonato da parte di Savini peccato peccato perché la costruzione non era stata male l'azione tutti si aspettavano il tiro di Bosniak questa è un'ingenuità clamorosa se prende il 2 minuti è un'ingenuità no no per fortuna è solo 7 metri giusto questa chiamata giusto devo dirti che c'era un grande spazio tra Seba Garau e il suo compagno e non è stato veloce a chiudere la penetrazione di Camperio Seba Garau ed è ancora Filippo Arceri che segna ancora su rigore 3 su 3 per Filippo Arceri dai 7 metri esce Argentin esce Michele Rossi rientra Alessandro Leban e rientra Gerardi chiama il time out Beppe Tedesco allora lamenta l'arbitro il cambio tra Michele Rossi e Leban per il rigore precedente perché devono devono essere avvisati gli arbitri del cambio per il rigore è la prima volta che lo sento questa cosa se lo fanno nei tempi prestabiliti non bisogna avvisare nessuno è una cosa da nulla anche gli arbitri stanno sentendo la partita probabilmente è una partita che Bologna sembra poter gestire ma non fa lo strappo anche in questo secondo tempo siamo andati sul più 5 ma poi qualcosa si è inceppato un po' di nervosismo un po' di mancanza lucidità però ci siamo siamo in partita mancano 17 minuti al termine alla gara e dobbiamo assolutamente difendere concretamente se possibile parargli anche questo il prossimo attacco perché questa è una partita che si giocherà molto più sulle difese nel finale di gara perché il punteggio è alto e comunque devo fare i complimenti anche ai ragazzi del Cingoli che veramente anche sotto di 5 di 6 gol non hanno mai mollato ed è una grande grinta agonistica da parte dei ragazzi del Cingoli e non è da meno quella del Bologna io vi ricordo che voi siete in diretta su Radio Handball Italia e potrete vedere in differita su TRC Sport canale 185 del Digitale Terrestre questa partita domani sera alle 20.30 e intanto un grandissimo gol di Pedretti che porta più 4 il vantaggio del Bologna grande grande giocata Savini Pedretti Camperio non sa che fare salta qui Pedretti e perde l'attimo ma Cingoli non riesce a chiudere Ilari ancora per Camperio serve una gran bella difesa più 4 difesa da sostenere Nocelli va ad attaccare cerca lo spazio Camperio non ha spazio è una bella palla recuperata questa da Bologna con Leban che fa ripartire Savini giocchiamo questa palla come se fosse l'ultima bellissima la palla ed ecco ah sbaglia ancora Pedretti il tiro un tiro un tiro non difficile non difficile bellissima prima mi pare proprio la difesa di Savini che ha portato via completamente la palla a Camperio recuperandola per il Bologna ed è rientrato Davide Campana giocatore con una carriera fantastica giocatore nazionale ex nazionale che ha dato il cambio a Camperio ed è Nocelli che sbaglia la ricezione ma è abile a riprendere la palla Campana per Nocelli ancora Campana prova a giocare uno contro uno ma Seba Garau è molto pronto a fermarlo Srappini rimette in gioco per Campana Nocelli che prova a caricare il braccio ma Leban para molto bene il tiro che era indirizzato proprio a pochi millimetri dall'attraverso questa è una difesa da dedicare a Seba Garau sta trovando una propria connotazione in questa partita sta capendo che oggi il nostro capitano serve più in difesa che non in attacco e qui ha negato un tiro pulito consentendo alla difesa di riorganizzarsi e poi Leban ci ha messo del suo quando però si trovi di fronte due portieri come Leban e Rossi che stanno parando in maniera eccezionale come oggi e che comunque hai di fronte un punteggio così alto vuol dire che si stanno affrontando due squadre dal potenziale offensivo clamoroso intanto è uscito Lorenzo Pedretti è entrato nella posizione di pivot Luca Argentin la difesa del Cingoli non cambia o un po' sì perché è una difesa un po' individuale 5-1 però con uscita su Bosniac del numero due ed è Gerardi che tira ma anche lui con un tiro abbastanza telefonato facile preda di Mario Gentilozzi ed è Campana che con la sua esperienza gioca un uno contro uno trova lo spazio va al tiro forse c'erano gli estremi del rigore dei 7 metri a mio parere l'arbitro non gli ha dati meglio per il Bologna c'erano tutti gli estremi per il 7 metri adesso Bologna deve difendersi ha la possibilità di giocare a difesa schierata 28 per chi difende 24 per chi attacca Bologna Cingoli un partitone stiamo assistendo Campana fa una finta non si muove la difesa di Bologna Ilari bravo bravo Savini come a Teramo così così si difende sono 17 minuti di gioco nella ripresa Campana uno contro uno con Argentini Ilari non trova spazio che bravo Garau che difesa che sta facendo Garau Campana prova il tiro Murato Murato addirittura ad Argentini questo è un momento delicatissimo della partita e Bologna lo sta affrontando bene bravo anche Levan che va a disinnescare Alceri difesa perfetta Gianni difesa perfetta e sappiamo che nella palamano se la difesa è forte si vincono le partite ma se la difesa non è forte e magari è molto forte all'attacco le partite non si vincono si vincono così con una grande difesa Gerardi Bernardo che viene su palla dall'altra parte per Seba Garau che prova a trovare lo spazio e non viene fermato dai nove metri Argentin per Bosniak sicuramente chiama la distanza anzi no era dentro con i piedi dentro i nove metri Bosniak che uno contro uno fantastico e si beve il suo diretto avversario che era Strappini e segna un altro gol Noccelli in piena velocità segna ed è due minuti per Argentin ad esempio chiamata giusta io guarda qui posso anche tranquillamente dire che ci poteva stare due minuti per Argentin però li fischia anche dall'altra parte perché questi sono contatti che abbiamo visto per tutta la partita deve fischiarli anche dall'altra parte e Bologna ancora in inferiorità sicuramente molti di più i due minuti del Bologna rispetto al 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 Cingoli anzi mi pare proprio che il Cingoli non ne abbia mai avuti mentre il Bologna ne ha già avuti quattro ed è Savini per Gerardi uno contro uno ancora forza Gerardi che non ha senso perché deve forzare siamo anche con un uomo in meno ed è Mangoni che segna di destro addirittura ed è meno tre per Cingoli 29 a 26 dopo 18 minuti e 39 giocati e Bologna non era un pallone imprendibile questo no Bologna Bologna è bravissimo ad andare in vantaggio di 4-5 gol poi però poi però si fa riprendere in maniera veramente commettendo degli errori evitabilissimi comunque Seba Garau per Bosniac che prova a giocare ancora uno contro uno ma viene fermato questa volta da Strappini ed è Savini Gerardi passivo sono due minuti questi sicuramente per Davide Campana giustissimi ha tirato la maglia la maglia di Savini Davide Campana due minuti sono i primi due minuti per il Cingoli Davide lo sa lo sa che ha fatto un fallo da due minuti adesso protesta perché è il gioco delle parti però la maglia di Savini si è vista praticamente togliere quindi è giusto così e non è più passivo quindi Bologna adesso può giocare con tutto il tempo a disposizione Savini per Gerardi cambio di posto con Bosniac Bosniac ah brutta era l'idea era bella ed è Filippo Arceri che segna con un pallonetto in contropiede e Cingoli è a meno due l'idea era buona ma passaggio sbagliato da parte di Bosniac e per Nardi questo è un errore grave da parte di Bosniac perché questo momento poteva essere il più quattro con la possibilità di giocare qualche secondo con l'uomo in più e invece ci ritroviamo al più due palle in mano siamo ed è Savini uno contro uno che segna ma adesso deve funzionare la difesa deve funzionare la difesa rientra Argentino e quindi ritorniamo con sette uomini ed è il Cingoli adesso invece a a essere in inferiorità vediamo cosa si inventa Cingoli punteggio altissimo e mancano dieci minuti trentaventisette un punteggio veramente molto alto sintomo che le due squadre della partita se la sono giocate se la giocheranno fino alla fine l'uno contro uno di Nocelli prova Mangoni a trovare uno spazio addirittura con il mancino deviato tiella 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 e sarà angolo peccato peccato si si era si era tuffato Leban ma non è non è riuscito per veramente qualche millimetro a non toccare palla sarebbe stato possesso del Bologna e invece è di nuovo possesso del Cingoli Ilari uno contro uno con Argentine Lorenzo Nocelli viene viene fermato e comunque aveva commesso secondo me invasione venendo giù e quindi nove metri per per Cingoli Ilari per Lorenzo Nocelli ancora Ilari che è un giocatore di sostanza Ilari si probabilmente è il momento di ridare qualche minuto anche a Michele Rossi per ritrovare anche il muro difensivo Leban ha fatto benissimo indubbiamente probabilmente però i due portieri bravi sarebbe giusto farli giocare entrambi Ilari prova ad attaccare e c'è la palla persa da parte dei Cingoli questo è un possesso importantissimo stava giocando sotto passivo il Cingoli probabilmente è per questo che gli arbitri allora se da due minuti eccolo che arriva eccolo eccolo arriva due minuti per la panchina I Cingoli Enrico devo dire che hai letto molto bene qualche secondo prima che l'arbitro estresse il cartellino cioè il cartellino i due minuti l'espulsione per due minuti per l'allenatore che adesso deve far uscire un giocatore di movimento e quindi I Cingoli ancora in inferiorità speriamo che Bologna sul 30-27 a 8 minuti e 23 secondi dalla fine riesca ad approfittare di questa superiorità per aumentare il vantaggio serve un break di 2-0 almeno perché adesso gli arbitri sanno che la partita sarà molto delicata da qui fino alla fine perché comunque parliamo di una partita penomale tirata che tutte e due le squadre interpretano in maniera abbastanza simile con foga con voglia agonistica ma soprattutto con grande capacità di correre per il campo e anche di fare dei interventi al limite Bologna deve sfruttare questa superiorità è una grande possibilità che a Bologna a 8 minuti dalla fine poco più di 8 minuti dalla fine ed è Gerardi per Nardo e segna Nardo veramente beffando sotto le gambe gentilotti l'abbiamo criticato contro Riago è 100% Nardo stasera sì si è sicuramente riscattato rispetto alla prima giornata di campionato contro l'Oriago e Sandro Nocelli chiama giustamente il time out 7 minuti e 55 secondi alla fine dell'incontro e anche Beppe Tedesco ha l'opportunità così di parlare suoi capisce Beppe sicuramente l'importanza di questo frangente della partita adesso Bologna in superiorità non deve prendere i gol eh no eh no adesso ancora una volta ci dobbiamo affidare alla difesa ancora una volta dobbiamo fare in modo che questa superiorità sia effettiva abbiamo fatto delle buone difese non siamo stati costanti però forse durante la partita qui si spiega il 31 a 27 con ancora 8 minuti da giocare però io i ragazzi li ho visti veramente concentrati un punteggio così alto perché sono due squadre che interpretano una palla a mano molto veloce molto veloce rientrano gli stessi per Bologna sì gli stessi uomini e anche per anzi no per il cingoli esce Ilari ed entra Mengoni che gioca terzino destro giocano senza pivot in questo momento difesa profonda del Bologna senza pivot Filippo Arceri che prova a lanciarsi e Denardo che con un colpetto quasi sulla mano del del cingolano ed è Campana che quasi perde palla grazie ad Argentine ma commette 9 metri una fischiata sbagliata a testa era regolare Argentine probabilmente poteva starci anche il 2 minuti Bernardo ecco che perde palla ah perde palla cingoli ma Gerardi non è velocissimo a prenderla la riprende Nocelli e segna questo gol che sicuramente è un gol un po' trovato eh sì però non andava concesso perché lì la palla si era imbucato Nocelli all'interno di un cono con tre giocatori in maglia a Bologna è stato un peccato non portare a casa sta difesa palla per Nardo che attacca addirittura cambia lato per Garau che decide di non attaccare riparte da Savini bravo Bologna è un possesso importante Bosniak segna Bosniak segna anche se il suo tiro è stato deviato dal muro del giocatore del cingoli probabilmente ha beffato Gentilozzi che si era già tuffato dall'altra parte ma va bene per i Bologna 31 a 28 meno di 6 minuti e 30 da giocare Filippo Arceri che fa sempre la stessa azione e segna venendo su dall'ala un ragazzo alto e sfrutta l'elevazione era la sesta volta che faceva finta di tirare palleggiava e ricominciava a giocare stavolta la difesa non ha saltato e ha tirato e ha segnato 9 gol di Filippo Arceri eh sì 9 gol è il maggior canoniere fino adesso ed è Bosniak per Savini che sicuramente gioca uno contro uno e infatti e segna aveva spazio sia a destra che a sinistra e lui è molto forte uno contro uno è un mostro di potenza Ilari intanto prova a servire Campana c'è una buona difesa da parte di Bologna bisogna reggere Campana prova ad attaccare tenta il tiro bowling che giocata di Campana erano i suoi gol questi e lo sono ancora stasera ce ne ha fatto vedere uno speriamo solo questo perché è un grandissimo gol di un di un di un ragazzo che che veramente è stato e lo è ancora un grande talento della Palamano 5 minuti al termine una partita splendida adesso Bologna deve essere calma nel gestirsi gran gol di Bosniak uguale a quello che ci ha regalato un punto contro Riago e non è da meno Bosniak rispetto a Davide Campana tiri velocissimo grande potenza è rientrato Ilari nel cingoli e il cingoli è di nuovo con 7 uomini palla persa e lancio in contropiede per Seba che segna 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 ed è di nuovo più 5 Bologna non so quanti passi abbia fatto Seba però l'importante è che abbia fatto gol posso dire premio coraggio Giulio Nardo era una palla quella che al 90% tu tieni perché sei più 4 palla in mano la sfrontatezza probabilmente anche un piccolo d'inconscio anche un po' di ingenuità da parte di Cingoli che non pensava a questo lancio bravissimo Garao ma che tandem prova la finita Campana viene fischiato non ho capito cosa Gianni un piccolo fallo su Davide Campana e va bene e ancora cingoli dai e vai tra Campana e Mangoni ed è in ocelli per Ilari il quale prova a lanciarsi non trova spazio Campana tiro deviato deviato e va dentro va dentro la porta Leban incolpevole sicuramente su questo su questo tiro ancora Campana che segna un po' fortunoso questo gol per Cingoli esce Leban ed entra Michele Rossi negli ultimi tre minuti e mezzo 35-31 per Bologna prende il palo Bosniac forse un po' forzato in questo tiro e meno male che il lancio in contropiede per Mangoni da parte di Gentilozzi appare lungo ed è Argentin che segna suo assist di Bosniac Argentin che segna il suo quarto gol ed è 36-31 poco più di quattro anzi di tre minuti alla fine ed è para Michele Rossi ed è Nardo che tira e segna il trentasettesimo gol 37-31 a meno di tre minuti dalla fine forse la partita è quasi finita forse possiamo dire che Bologna è vicino alla vittoria il Leone Campana non ce la fa sicuramente a chiudere qua non ce la fa chiudere questa partita perché vuole giocarla fino in fondo io lo conosco Davide non ce la regalerà mai anche se è sotto di sei a due minuti dalla fine che diventa praticamente impossibile io ci tengo a sottolineare passi intanto di Ilari una prova su tutti quella di Giulio Nardo perché ha giocato male contro Riago l'abbiamo detto tutti è ritornata ai suoi livelli contro contro Teramo ma stasera ha fatto una partita perfetta partita perfetta per Nardo partita ottima dei portieri partita ottima di Bosniac partita ottima di tutto il Bologna sicuramente e intanto gli arbitri gli arbitri fermano un attimo il gioco perché era caduto dal taschino il breviario diciamolo così degli arbitri Savini ancora per Gerardi entra Luca Cimatti e grandi applausi per Giulio Nardo che si è veramente riscattato ed è palla quasi persa del Bologna ed è palla persa adesso del Bologna un minuto e quaranta secondi circa alla fine dell'incontro 37 a 31 e intanto Filippo Arceri segna il suo decimo decimo gol è veramente molto forte non bellissimo da vedere ma molto forte questo ragazzo 37 a 32 la partita probabilmente a livello di due punti è finita ma conta la differenza reti stiamo molto attenti è importante continuare a segnare e non subire molti gol in questo incontro ma non perché le squadre non abbiano difeso ma soprattutto perché perché è stata una partita velocissima intanto c'è un altro gol di Giacomo Savini che arriva a sette segnature personali un minuto un minuto alla fine Bologna si aggiudica questo incontro 40 50 secondi alla fine Cingoli ancora è lì che prova a trovare la via della rete Ilari per Davide Campana per Nocelli per Nocelli per ancora per Ilari cambio di posto tra Campana e Ilari ed è Mattiasevic che prova a lanciare Campana che tira Ilari ma viene parato da Michele Rossi contropiede da Savini per Seba Garau e segna Garau terzo gol massimo vantaggio per Bologna 39 a 32 più sette Bologna Nocelli tira e Michele Rossi para 10 12 secondi alla fine contropiede ancora Bosnia che ha rischiato un lancio un po' così viene intercettato dal Cingoli ed è Nocelli che prova a tirare e segna segna Rotelli finisce l'incontro 39 a 33 grande Bologna si aggiudica i due punti e sale in classifica 5 aspettando il finale tra Tavernelle e Cologne per sapere se prima in classifica o meno grande Bologna e io vi ricordo che voi avete ascoltato la partita in diretta su Radio Handball Italia e potrete vedere la partita indifferita su TRC Sport canale 185 del digitale terrestre e noi la prossima settimana non ci sentiremo perché il campionato è fermo per impegni della Nazionale e ci sentiremo fra due settimane a tutti voi ascoltatori un grande saluto da Gianni Recalbuto Enrico Bonzamini e Gianfranco Santolero arrivederci alla prossima conţ